Buonasera, oggi un po' di piccolo shopping per alcuni clienti, come c'è chi lo sa e chi non lo sa. Vendo anche make-up economico, anche biglietteria, perché purtroppo ci sono alcuni clienti che in tempi mi acquistavano i Navon. Adesso, cioè sia in Navon che in Brouche, adesso rimpiccioliscono comunque gli ordini. Quindi, addirittura alcuni non mi ordinano più per il fatto del prezzo, perché il prezzo è semplicemente alto. Quindi, essendo che il prezzo è alto, molte persone non riescono neanche più a spendere. Se prima mi spendevano quei 20 euro di make-up, tipo con la color trend, roba varia, adesso quei 20 euro stessi arrivano sia e no a prendere uno, massimo due prodotti. Proprio quando io gli ripasso magari con qualche sconto, perché giustamente i tempi sono quelli che sono. Comunque, vi faccio vedere il make-up che ho preso da alcuni clienti. Allora, una mia cliente, mi ha dato un budget, mi ha detto disordinami questo, quello che mi serve. Allora, io ho preso della marca Tertio, spero che si pronuncia così, questo fondotinta liquido. Questo non l'ho mai provato, perché io non lo so, sono un po' diffidente, però questa marca mi hanno detto che è spettacolare. Io ancora non l'ho provata, però gli darò qualche possibilità a questa marca. La mia cliente, io ho scelto la Tronita 03, diciamo che è per pelle media. La cipria per un'altra cliente, sempre Tertio, questa è la 02, bella veramente. I prezzi comunque sono bassi, se non erro, la cipria 350, fondotinta 5, una roba del genere. Poi abbiamo questo duo bellissimo, che questo sta a 5 euro, ma è bellissimo. Cioè, guardate il rossetto stupendo della linea Ushas. Questa linea è una linea ottimissima, veramente, si è aperto. Questo matita, se è più rossetto, 5 euro, è della Tronita 10, è bello, bello veramente. Così, la mia cliente si fa matita, più rossetto, troppo bello. Poi, mascara. I mascara io li ho provati qualcuno, ora ovviamente non ci sono, cioè quelli che ho provato, perché comunque cambiano. Questo che ho preso alla mia cliente, se non sbaglio, è volumizzante. Ah, sì, mascara waterproof, lunga tenuta. E volumizza le ciglia, e fa tutto questo. Comunque, è carinissimo questo colpec rose. Poi, mi serviva una matita. Questa, io ho preso questa, sempre della Tertio. Questa è con il tempera matita inclusa. Aspetta, vediamo. Col tempera matita incluso. A me piacciono troppo quelle con il tempera matita incluso. Perché? Semplicemente perché non c'è la possibilità, se non lo avete il tempera matita già, c'è lui che fa tutto. Poi mi ha chiesto uno smalto trasparente. Questo è una specie di top coat, ma lo potete utilizzare anche come smalto trasparente. Questo sono, sbaglio, 2 euro, 2,50. I prezzi superciuti. Sono sempre quelli. E io, invece, mi sono voluta prendere questo, che in teoria è un ombretto liquido. E apriremo, vediamo. Questo è della marca Ushes. Come vedete, no, vabbè, è veramente glitteroso. Mi piace. Io amo l'argento troppo. Vabbè, questo sicuramente è così. Non so se esattamente lo userò o no. E poi mi sono voluta prendere io questi bellissimi orecchini. Mi piacciono troppo. Le volevo a cerchio, perché di solito quando vado dal mio fornitore, prendo sempre quelli a cerchio. Ora, stavolta ho visto questi a crocia. Mi sono piaciuti troppo. Per 3 euro li ho presi. Bellissimi. E niente, questo è stato il piccolo carico. Niente di che. Per le mie clienti, quelle due o tre clienti. Ora mi ha detto la mia amica, siccome questa marca non l'ho mai provata, né questa, né questa. Dice, se mi ci trovo bene, Carmen, mi prendo questi da te e me ne frego. Dice, mi faccio scorta, perché ora dice come ora. Io purtroppo, dice, devo, come si dice, devo andare sul make-up, sul make-up economico. Per le mie tasche. E quindi, niente. Quindi, penso che vedrete molto spesso questi video. Va bene, raga, vi saluto. Nel prossimo video. Ciao. 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 Ciao.